La manovra che il Governo si appresta a presentare alle Camere è sbagliata e pericolosa per il Paese. È sbagliata perché promette crescita e uguaglianza, invece produce un effetto depressivo sull'economia, produce uno spreco di risorse con destinazioni ancora del tutto da chiarire come il fantomatico reddito di cittadinanza. Rischia di indebolire il sistema previdenziale con l'assurda pretesa di creare occupazione con la riforma delle pensioni. Il lavoro va creato con incentivi e con investimenti. È inoltre una manovra pericolosa per la tenuta del Paese perché non solo promette di avere un deficit insostenibile e crescente, ma è un deficit che le stesse autorità internazionali ritengono già troppo ottimistico. Quindi con questa manovra avremo più debito invece che meno debito, avremo meno crescita invece che più crescita e avremo più diseguaglianza invece che meno diseguaglianza. Il PD sta lavorando a proposte efficaci che taglino veramente le tasse per famiglie e imprese, riavvinano l'economia, sostengano il settore edilizio, rimettano al centro gli investimenti di Casa Italia e lo farà compatibilmente con i vincoli di mercato, di sostenibilità del Paese e delle regole europee.